Ciao a tutti ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo video, sono LeVosterBlack e oggi siamo su un video di compraventa. Prima di tutto vorrei salutare Marco che me lo chiede sempre e me ne scordo sempre di salutarlo, quindi ciao Marco. Comunque, ora riprendiamo al nostro video, come vedete avevo comprato quelle Fabio come entravo a 1500, adesso ne ho comprato un'altra a 1900 addirittura, l'ho trovato subito e adesso un'altra a 1600, quindi gli voglio fare vedere come mi spuntano di questi come entravo, me ne è spuntato uno ogni 5 secondi, quindi è davvero buono, infatti ne ho comprato i 3 in questi 15 secondi, ne ho già compresi i 3 ad un prezzo buonissimo. Qua intanto adesso cosa faccio? Ho velocizzato, intanto avevo preso quell'altro poi entravo a 850, già preso e intanto sono andato a prendere questi. Perché ho velocizzato? Perché mi stava crashando tutto un po' l'asta, insomma, gira di gira ho velocizzato in modo da non farvi vedere questa lunga parte, però la voglio farvi vedere lo stesso, così vedete che sono riuscito a prenderli senza alcun problema, davvero velocemente, ad un prezzo giustissimo da appendere, anche per avere un buon profitto. Infatti come vedete già due ne ho presi, questo qui l'ho allevato perché a 2000 non ci guadagnavo tanto e questo insomma vedremo se appunto riuscirò a prenderlo. Quindi questi sono tutti i coentrao che ho preso in questo minuto, in pratica ne ho presi tantissimi, ne ho presi super giù, quanti? 6, 7? Insomma, fatto sta che adesso le vado a mettere prezzo iniziale 1.500 e penso comprare ora 2.000, insomma, sì 2.000, 2.500. Insomma, me li compreranno perché come vedete qua me li hanno comprati tutti, tutti, tutti. E nel frattempo che me li compravano, cosa ho fatto? Sono andato a cercare a compra ora e ne trovavo una a 1.800, una a 1.900 e questa a 1.600, insomma li trovavo. Quindi è un giocatore che si trova sia all'asta che al compra ora, quindi è molto facile da prendere. Se vi è piaciuto questo episodio mettete un like e iscrivetevi. Ci vediamo domani con un nuovissimo video di compra veneta. Ciao a tutti da Black. Ciao a tutti.